buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite siamo nella stagione 3 capitolo 3 settimana numero 7 oggi vediamo insieme come completare velocemente l'incarico settimanale di questa settimana appunto la numero 7 intanto vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono vi ricordo inoltre di seguirmi su instagram perché tutte le settimane metto in palio codici per riscattare gli oggetti decorativi in collaborazione con marvel e fortnite guerra zero ho già regalato qualche skin di spaitame qualche copertura di Ironman quindi mi raccomando seguitemi e attivate la campanellina supportate il canale con un bel like al video e ora cominciamo con l'incarico di oggi ecco qui esegui una rotazione aerea a 360 mentre smonti da un lupo o da un cendiale prima di tutto bisogna recuperare un lupo o un cendiale come ho fatto io quindi bisogna trovare una zona tranquilla per poter fare il carico senza essere disturbati si salta si smonta si fa un 360 e si completare l'incarico in modo veloce abbiamo messo veramente 30 secondi se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti